Berberi 3.f attraverso Francesca R a cura di VB Michel Relativo al piano fisico. L'ultimo aspetto da padroneggiare e superare perché si è in grado di non aver più necessità nel proprio divenire del piano fisico è il discorso della creazione percezione che si inizia a incontrare dai più bassi livelli della presenza nel piano fisico fino al più alto livello del piano fisico dove si padroneggia perfettamente la creazione e percezione. Che cosa vuol dire? Abbiamo parlato di tessuto. Tessuto nella creazione e percezione si può tagliare, cucire, spostare, modificare senza cambiarne la sua natura ma cambiarne un aspetto di incontro, avvicinare, allontanare ma sempre quella è la natura del piano fisico vibrazionale dell'essenza del piano fisico. Non si può alterare la vibrazione che genera la necessità del piano fisico. Si può alterare tutto quello che è all'interno del piano fisico per cambiarlo, crearlo e percepirlo a seconda della propria vibrazione evolutiva. Si comincia a sperimentare questo, come dicevo, sin dalle prime, dai primi, non ti devi scusare, non serve, dai primi momenti incarnativi. Quindi dalla razza neonata, per esempio, all'interno del pianeta Terra, che cosa farà come creazione e percezione? Creerà e percepirà ogni singola situazione che gli permetterà di unirsi a quello che è. Quindi, diciamo, la prima incarnazione prevede che ti incontri con tante altre prime incarnazioni, perché si è similari. Similari che aiuta anche una legge economica del divenire, creando possibilità di muovere cause, vivere effetti, più o meno della stessa momento vibratorio all'interno della stessa razza, più o meno similari. Grazie a tutti.